E che cosa sapresti di me? La risposta è quella, le tue salite, le tue discese, i tuoi orari. Qualcuno a cui hai rotto il cazzo, una signora con cui sei stato gentile. Non vi rendete conto di quante cose ci lasciamo alle spalle? Quello che ti sei lasciato dietro tu, non sono bastato a tua padra per trovarti. Se capisco perché ti piace stare in mezzo alle gente, io ti trovo. Tu non sai stare neanche accanto a Riva, e la sua unica colpa è quella di volerti essere amico. Hai finito? No, ho appena cominciato. E sai qual è la cosa peggiore? Che hai paura, e stai pensando di rifarlo. Sto solo cercando uno scomparso. Io avrò il cancro, e sto per morire, ma tu si hai messo molto peggio di me. Posso darti un consiglio? Attento a chi feriresti questa volta. Grazie a tutti. Grazie.